Anche quest'anno, come tutti gli anni, riproponiamo il nostro concerto all'alba, insomma, quando arriva luglio ormai è una consuetudine del 2013, che ci troviamo davanti alla Cappella Polverini, una location magnifica incastonata all'interno delle vigne della fattoria La Traiana di Gian Domenico Giganti, a cui va il nostro grazie, il primo grazie per tutti gli anni per ospitare questo evento. E quest'anno il nostro concetto vuole avere anche un valore simbolico oltre a quello artistico. L'alba rappresenta la rinascita e noi abbiamo voluto ripartire con due artisti d'eccezione, insomma, due artisti importanti, Giuseppe Grono al pianoforte e Valentina Renesto al sax, che riprodurranno, ripercorreranno artisti per lo più dell'epoca contemporanea, Fabris, Schumann, Kurt Weill, ma non mancherà anche lo spazio per fare un omaggio a Stor Piazzolla nel centesimo anniversario della nascita. Quindi vi aspettiamo sabato mattina, sabato 17 alle 6 la mattina alla Traiana, un quarto alle 6 in piazza, inizieranno ad esserci i nostri addetti, che vi accompagneranno all'area della Cappella Polverini per il concerto, per, come tutti gli anni, insomma, aspettare l'alba dell'estate con un po' di musica. Grazie.